Ioan l'ostinato, Jack London Poiché mai vi fu legge divina o umana a nord del cinquantatresimo parallelo. Ioan si rotolava su se stesso, graffiando e tirando calci. Lottava ormai con le mani e con i piedi e lottava con accanimento e in silenzio. Due dei tre uomini che gli stavano addosso urlavano ordini e disperatamente cercavano di averla meglio su quel piccolo diavolo cappelluto che non voleva saperne di calmarsi. Un terzo uomo gridava dal dolore con quanto fiato aveva in gola. Aveva un dito tra i denti di Ioan. Smettila con queste follie, Ioan, e calmati, ansimava Red Bill, cercando di stringere il collo di Ioan in una morsa. Per che diavolo non ti lasci impiccare in modo decente e tranquillo? Ma Ioan non mollava il dito del terzo uomo e si contorceva per terra davanti alla tenda tra pentole e padelle. Di sicuro non sei un gentiluomo, lo rimproverava Mr. Taylor, in cui corpo andava presso al dito e si sforzava di adeguarsi ad ogni scatto della testa di Ioan. Hai ucciso Mr. Gordon, l'uomo più bravo e rispettabile che abbia mai guidato cani sulle piste del nord. Hai un assassino. E per di più non hai dignità. E non sei un amico, intervenne Red Bill. Se tu lo fossi, ti lasceresti impiccare senza far tanto chiasso e dar tanto fastidio. Andiamo, Ioan. Fai il bravo ragazzo. Non ci dare più guai. Se smetti, ti impiccheremo in modo corretto e veloce. E non se ne parlerà più. Decidetevi, questa volta a gridare era Lawson, il marinaio. Incastrategli la testa nella pentola di fagioli e schiacciategliela. Non con in bocca il mio dito, spero, protestò Mr. Taylor. E basta con questo vostro dito sempre in mezzo. Ma non posso, Mr. Lawson. È nella gola di quel disgraziato e me lo sta masticando. Attenti, fatevi da parte. Crollano i sostegni. Come Lawson diede l'allarme, Ioan si sollevò a metà. E i quattro che lottavano si tuffarono quasi nella tenda, dentro una gran confusione di coperta e pelliccia. Nel passaggio era visibile il corpo di un uomo che giaceva immobile e che perdeva ancora sangue da una ferita di fucile al collo. E tutto era successo per la follia che aveva improvvisamente colpito Ioan. La follia che prende un uomo che ha vissuto sulla superficie grezza della terra, vagando a lungo in uno stato di innocenza primordiale. Un uomo, davanti ai cui occhi si allineano le ferti rivallate della patria e nelle cui narici è presente il profumo del fieno, dell'erba e dei fiori e della terra appena arata. Per cinque anni di gelo, Ioan aveva asseminato. Lostwood River, Fort Mile, Circle City, Koyukuk, Kotsbu avevano assistito alla sua opera di agricoltore, monotona e tenace. E ora era da nome che si aspettavano un raccolto. Non la nome delle spiagge dorate e delle sabbia di rubino, ma la nome del 97, prima che Anvil City fosse fondata e del Dorado District organizzato. John Gordon era uno Yankee, ne avrebbe dovuto capire, ma ebbe parole taglienti in un momento in cui gli occhi iniettati di sangue di Ioan ardevano dall'ira e i denti erano serrati dal tormento. E fu a causa di ciò che in quella tenda si udì odore di salnitro e un uomo giacqua immobile, mentre un altro stava lottando come un topo preso in trappola, rifiutandosi di farsi impiccare in modo decente e pacifico come suggerivano i compagni. Se permettete, Mr. Lawson, prima che andiate oltre con questo gran disastro, ne avrai l'ottima idea di strappargli i denti di sopra. Non morderà più, né se ne andrà girando. Ma la furbizia di un serpente, sì, la furbizia di un serpente, lasciatemi usare l'accetta, gridava il marinaio lasciate che io prenda l'accetta ed egli avvicinò la lama d'acciaio al dito di Mr. Taylor usando i denti dell'uomo come fulcro. Ioan resistette e respirò con il naso sbuffando come un'orca. Fermi tutti, eccolo che molla. Grazie, signora, è un gran sollievo e Mr. Taylor si preparò a ricevere tra le braccia la vittima che barcollava. Ma Iyan si sollevò in un attacco di rabbia furiosa imprecando, sanguinante, coperto di schiuma cinque anni di gelo che si squagliavano in quell'inferno improvviso. Gli altri avanzavano e dietreggiavano sbavando ansimavano, sudavano come un qualche mostro ciclopico dalle molte gambe che si sollevasse dalle profondità più cupe. La lampada a petrolio si rovesciò annegata nel suo grasso mentre il crepuscolo del meriggio a malapena filtrava attraverso la tela sporca della tenda. Per amor di Dio, Iyan, ragiona, supplicò Radbill non ti faremo male per ucciderti niente del genere ti vogliamo solo impicchiare questo è tutto e tu fai un macello e ti agiti in questo modo terribile pensate che abbiamo tanto viaggiato insieme sulla pista e ora ti comporti così da non credersi, Iyan ha troppa libertà di movimento acchiappategli le gambe legatelo e tiratelo su, così sicuro, mister Lawson spingete anche voi con tutto il peso quando ve lo dico e Cantacchiano cercò a tentoni nell'oscurità tenebrosa ora è il momento giusto ci fu come una grande ondata di uomini che si sollevavano tutti insieme e un quarto di tonnellata di carne umana barcollò e cadde rovinosamente contro la parete laterale si staccarono i picchetti delle funi e la tenda, crollando avvolse tutta la battaglia tra le pieghe della sua stoffa unta dai solo rendendo tutto più difficile per te continuava intanto Radbill mentre infilava i due pollici in una gola cespugliosa e intanto ne bloccava in terra il proprietario già, hai fatto abbastanza ciocchezze ora dovremo impiegare una mezza giornata a rimettere tutto a posto una volta che ti avremo impiccato ti sarò grato se mi lascerai andare piacicò mister Taylor Radbill allentò la presa con un guaito e i due rotolarono allo scoperto nello stesso istante Jan si rivelava del marinaio con un calcio e se la dava a gambe nella neve attenti, diavoli fannulloni Buck, Bright, cercatelo tiratelo giù strillava l'oson spolmonandosi tra la neve all'inseguimento del fuggiasco Buck e Bright, seguiti dal resto dei cani raggiunsero l'assassino e lo sorpassarono non c'era assolutamente motivo perché quegli uomini facessero tutto ciò ne vi era alcuna ragione per Jan di scappare ma infine nessun motivo perché gli altri si preoccupassero di impedirglielo da una parte infatti si stendeva la neve esterminata e squallida dall'altra il mare gelato senza cibo e riparo egli non poteva andare lontano tutto quello che dovevano fare era aspettare che tornasse alla tenda come doveva inevitabilmente fare quando lo avessero colto il gelo e la fame ma questi uomini non si fermavano a pensare c'era la follia che correva nelle vene di tutti inoltre era stato versato del sangue e da loro c'era torbida e bollente brama di altro sangue la vendetta è compito mio aveva detto il signore ma l'aveva detto in climi temperati dove il sole tiepido diminuisce le energie degli uomini ma nella terra del nord avevano scoperto che la preghiera era efficace solo quando aiutata dai muscoli erano abituati a far da soli Dio e dappertutto avevano sentito dire ma per metà anno mandava ombre sulla terra che lo nascondevano agli occhi dell'uomo ma ecco che gli uomini brancolavano nell'oscurità e non c'era da meravigliarsi che spesso dubitassero che escludessero i dieci comandamenti dalla loro attrezzatura Ian correva alla cieca non badando alla direzione egli era guidato infatti da un solo verbo vivere vivere, esistere Buck saltò ombra grigia nell'aria ma mancò l'obiettivo cercò selvaggiamente di colpire l'avversario e inciampò poi i denti bianchi di Bright si chiusero sulla sua giacca impermeabile e si trovò a testa sotto nella neve vivere esistere combatteva con la violenza di sempre punto centrale di un mucchio di uomini e cani che si agitavano con la mano sinistra ferrò un canelupo per la collottola mentre il braccio era vinghiato attorno al collo di Lawson ogni tentativo del cane di liberarsi aumentava la stretta alla gola del marinaio disgraziato la mano destra di Ian era sepolta nei capelli intricati della testa arruffata da Red Bill e sotto a tutti Mr. Taylor giaceva inchiodato e sfinito era un grovigio senza rimedio era la forza prodigiosa della follia ma improvvisamente senza un apparente motivo Ian allentò le varie prese e rotolò tranquillo sul dorso gli avversari si scostarono un poco sconcertati e perplessi Ian ghignò maligno amici miei disse e ridacchiava mi avete chiesto di essere gentile e ora sono gentile che diavolo volete fare con me va bene Ian sta calmo cominciò Red Bill con voce sua dente sapevo che prima o poi avresti ragionato adesso sta buono e ti faremo un servizio pulito e veloce di che si tratta? di che servizio parlate? di impiccarti e dovresti ringraziare la tua buona stella che c'è uno che conosce il mestiere io l'ho già fatto in altre occasioni prima d'ora più di una volta laggiù negli Stati Uniti e so farlo con il sistema T impiccare chi? me? sicuro? ah ma senti che cretinate dice questo non mi ho una mano Bill e io mi alzo e mi faccio impiccare si alzò lentamente in piedi e si guardò intorno Ergot ma ascolta questo mi vuole impiccare non credo proprio proprio così non ci credo e invece io credo di sì imbecille se non sci l'osone in tono sprezzante e intanto tagliava una fune da slitta e la arrotolava con un'attenzione che non prometteva nulla di buono il giudice Linz presta servizio in tribunale proprio oggi un momento solo Jan fece un salto indietro dal cappio che gli veniva offerto devo chiedervi qualcosa e farvi un'osservazione importante Kentucky lo conosci il giudice Linz? certo fa parte di un'istituzione di uomini liberi e gentleman antica e onorata può esistere la corruzione allogorare la toga della magistratura altrove ma sul giudice Linz si può sempre fare assegnamento lui amministra la giustizia senza chiedere nulla ripeto senza chiedere nulla la legge può essere comprata e venduta ma in questa terra illuminata la giustizia è gratis come l'aria che respiriamo forte come il liquore che beviamo veloce come falla finita scopri che vuole quella cattone interruppe Lawson sciupando l'intero sproloquio bene Kentucky dimmi questo un uomo uccide un altro uomo questo giudice Linz lo impicca? se c'è prova sufficiente? sì certo e la prova in quel caso in questione è abbastanza per impiccare una dozzina di uomini Jan interruppe Redville non importa Bill con te parlo dopo ma voglio chiedere un'altra cosa a Kentucky se il giudice Linz non impicca quell'uomo allora quell'uomo è libero e le sue mani sono levate dal sangue e inoltre certo come dice giustamente la nostra grande gloriosa costituzione che nessun uomo può essere incriminato due volte per lo stesso crimine e gli possono sparare o dargli una mazzata in testa o cose simili? no certo bene sentite come parla Kentucky teste dure ora parlo con Bill tu sai del mestiere e mi impicchi nel migliore dei modi è questo che dici ci puoi scommettere la testa e Jan se non mi dai più guai sarai orgoglioso del lavoro sono un esperto hai una gran testa Bill e certo sai una cosa o due sai per esempio che due più uno fa tre non è vero? Bill fece cenno di sì e tu sai che quando hai due cose non ne hai tre d'accordo ora ascoltami bene e ti spiego ci vogliono tre cose per impiccare prima cosa devi avere l'uomo bene io sono l'uomo seconda cosa devi avere la corda l'oson ha la corda bene la terza cosa devi avere qualcosa a cui legare la corda hai un'occhiata al paesaggio qui intorno e dimmi se trovi la terza cosa a cui attaccare la corda che ne dici? istintivamente tutti perlustrarono il ghiaccio era uno scenario assolutamente omogeneo privo di contrasti e di contorni decisi squallido desolato e monotono il mare ingombro da blocchi di ghiaccio la scarpata appena scoscesa della spiaggia sullo sfondo basse colline e su tutto era stato gettato uno sconfinato manto di neve non ci sono alberi non ci sono scogli non capanne o pali del telegrafo nulla gemette Redbill niente di abbastanza rispettabile o abbastanza grande per far penzolare a terra le estremità di un uomo lungo un metro e mezzo io ci rinuncio e guardò con rammarico quella parte anatomica di Yang che unisce le spalle alla testa rinunciate ripete tristamente a Lawson getta la fune Dio non ha mai pensato a questo paese perché la gente ci vivesse e questo è un fatto Yang a fumare una sigaretta in apparenza hai ragione Bill figliuolo cominciò a parlare Lawson ma tu sei un cretinotto e puoi approfittare per imparare un altro fatto ci vuole un allevatore marino per insegnare a voi dente di terra certe cose hai mai sentito parlare di un paio di forbici allora guarda bene il marinaio lavorava con rapidità dal mucchio del materiale abbandonato su cui aveva tirato la barca in secco l'autunno precedente tirò fuori un paio di lunghi remi li legò insieme quasi ad angolo retto in modo simile alle lame di una forbice dove sarebbero dovute essere le impugnature le infilò nella neve i buchi profondi fino alla sabbia al punto di inserzione attaccò due funi che scorrevano attaccando a uno un blocco di ghiaccio della spiaggia passò l'altro capo a Red Bill ecco qua figliuolo tienilo e lascialo scorrere e con grande orrore Jan vide la sua forca che saliva nell'aria no no gridò rannicchiandosi alzando i pugni non funziona non impicca andiamo imbecilli vi metto tutti sotto uno dopo l'altro farò un inferno farò l'ira di Dio e morirò prima di essere impiccato il marinaio lasciò che gli altri due uomini si avvinghiassero a quella creatura impazzita rotolarono si gettarono a terra a vicenda furiosamente strappando neve e tundra una lotta feroce una tragedia delle umani passioni scritta sul manto bianco steso dalla natura e ogni tanto una mano a un piede di Jan emergevano dal groviglio dei corpi e l'Oson lo afferrava e lo legava stretto con pezzi di fune tra calci graffi e bestemmie egli fu preso e legato centimetro per centimetro e trascinato dove le inesorabili forbici spuntavano come un paio di giganteschi compassi sulla neve Red Bill aggiustò il capio mettendogli il nodo da boia proprio sotto l'orecchio sinistro Mr. Taylor e l'Oson si attaccarono al capo libero pronti all'ordine ad alzare la forca Bill indugiò un momento a contemplare l'opera con la soddisfazione dell'artista Ergot ma guardate l'orrore nella voce di Jan fece sì che gli altri si fermassero la tenda caduta era stata alzata e nel crepuscolo che si addensava nell'aria delle braccia da fantasma si agitavano qua e là si alzavano verso di loro con un gesticolare ubriaco un attimo dopo John Gordon trovò l'apertura della tenda e si trascinò fuori che diavolo d'inferno e subito la voce gli si spense in gola mentre si rendeva conto del quadro che aveva innanzi fermatevi io non sono morto gridò avanzando verso il gruppo con un atteggiamento burrascoso permettetemi mister Gordon di congratularmi per la vostra salvezza azzaldò mister Taylor e ha fatto la barba da vicino sicuro una bella rasatura all'inferno le congratulazioni avrei potuto essere morto e marcito per quel che vi riguarda e John Gordon si lasciò andare a un alluvione di un inglese limpido intenso accusatorio e composto soltanto di esplicativi e di aggettivi semplicemente mi ha tosato continuò dopo che si fu sfogato a sufficienza ha mai tosato il bestiame Taylor certo molte volte laggiù nel paese dei cristiani proprio così questo è quanto mi è accaduto la pallottola mi ha tosato sotto la nuca in cima al collo mi ha fatto perdere i sensi ma non mi ha fatto alcun male si tira verso l'uomo legato alzati Jan ti stenderò a furia di botte a meno che tu non voglia scusarti non ci penso proprio slegatemi e vedrete replicò Jan l'ostinato il demonio dentro di lui ancora ribelle e dopo che ho steso voi toccherà il resto di questi imbecilli uno dopo l'altro e anche tutti insieme benissimo non ci penso non ci penso Grazie a tutti